Una settimana di lavoro è trascorsa dopo l'ottimo parigi con la regina, arriva l'Avellino ma è una Paganese in gerottata, soprattutto in difesa. Sì, abbiamo fatto una settimana un po' particolare, ci sono stati diversi acciacchi che andranno poi valutati nell'immediato inizio del match. Da valutare sicuramente Panariello, Stendardo, Perri, Carotenuto, Khalil stesso. Quindi c'è una situazione un po' particolare che non avevamo vissuto ancora dall'inizio del campionato, ma fa parte di un percorso normale, qualche acciacco. Ma sono sicuro anche chi ci sarà darà il suo contributo, quindi indipendentemente da chi possa partire prima e chi dopo, cercheremo di mettere dentro un 11 competitivo che vada ad affrontare una partita molto delicata. Che tipo di partita sarà domani quella con l'Avellino, un Avellino che arriva a Pagani, anch'essa con qualche problemino fisico da parte di qualche giocatore? Sicuramente loro sono una squadra ferita in questo momento, sono partiti molto bene, stanno avendo un momento un po' di difficoltà, che fa parte di uno step normale, ma direi che più o meno si affrontano due squadre che hanno gli stessi punti, due squadre che hanno dei valori, l'Avellino è giocatori di assoluta qualità, di grandissima esperienza, quindi per una partita difficile perché sappiamo, non ci fidiamo sicuramente del loro periodo poco fortunato, ma abbiamo le antenne belle e dritte perché sappiamo che è una partita molto difficile. Partita molto difficile però Avellino e Paganese con lo stesso modulo, modulo a specchio 3-5-2, però soprattutto con la Paganese che ha dalla sua il fortino Marcello Torre, diversamente dallo scorso anno. I risultati attuali hanno recitato in questo senso, puntiamo ad allungare questa striscia positiva, non sarà facile ma sono sicuro che i ragazzi venderanno cara la pelle perché è una partita diversa sicuramente da quella di domenica scorsa dove abbiamo affrontato una squadra fortissima che ci ha costretto soprattutto nel primo tempo sulla difensiva e domani ci toccherà anche fare la partita, quindi sarà soprattutto dai risvolti tecnici una partita completamente diversa, dove dovremo fare con l'equilibrio giusto entrambe le fasi. Mister, rispetto a domenica scorsa dove si sapeva fin dall'inizio che sarebbe stata una gara in salghita, con tante insidie, quella di domani può essere ancora a doppio taglio nel senso che è la vera prova del 9 per la Paganese contro una diretta candidata alla salvezza? Sì, ma sicuramente sarà una partita diversa da quella di domenica scorsa, ma dobbiamo stare molto attenti, perché è una squadra che ha dei valori e poi di solito le squadre che stanno un po' in difficoltà cercano di dare qualcosa in più, ma noi, nonostante stiamo vivendo un momento positivo, vogliamo anche noi spingerci oltre, dare qualcosa in più per continuare il discorso positivo che abbiamo intrapreso da un po' di tempo. Grande attenzione, grande consapevolezza, grande determinazione, grande rispetto per l'avversario, ma consapevoli che in casa nostra abbiamo dimostrato che con le unghie e con i denti siamo riusciti sempre all'obiettivo. Che cosa ti aspetti, anche come risposte mentali dai tuoi giocatori? Mi aspetto che dobbiamo andare avanti, dobbiamo andare avanti, non basta una rondina non fa primavera, sicuramente è stato un atteggiamento molto positivo quello di domenica scorsa, ma si è cancellata, si va avanti, il campionato continua, domani c'è un'altra prova, ogni partita è un test, è un esame, e noi dobbiamo misurarci domenica per domenica con avversari che possono avere caratteristiche anche differenti, ma il nostro atteggiamento non dovrà mutare più di tanto. Mister, non so se gioco o no standard, ma cosa cambierebbe anche a livello proprio tattico con o meno l'assenza dell'esperto difensore centrale? No, non cambierà nulla, quindi solo un discorso di valutazione fisica oggettiva, visto che è uscito per infortunio, si è aggregato solo ieri, e quindi è ovvio che è fatto una settimana differenziata, dopo un'infortunio muscolare bisogna con lo staff sanitario fare delle valutazioni approfondite, considerato il fatto che poi il campionato non finisce domani, e noi dovremo fare delle valutazioni con grande saggezza, con grande attenzione, quindi con grande obiettività. Ci potrebbe essere, vista anche la sua assenza di domenica scorsa, giusta per l'atteggiamento tattico della partita, una presenza dall'inizio di Francesco Scarpa, nello scacchiere per modificare anche un assetto tattico e di mentalità, diciamo, della partita, di atteggiamento diverso. Ma questo non lo so, sicuramente noi stiamo partendo in un certo modo, che è quello che fino adesso ci ha garantito più equilibrio, più solidità. In gara e in corso potremo fare delle cose che abbiamo mostrato anche fare bene, quindi sicuramente si può partire in un modo e finire in un altro, ma sicuramente il dato oggettivo è quello che in partenza abbiamo mostrato più equilibrio, giocando in un certo modo. Quindi di conferma del 3-5-2? Può darsi, può darsi, perché come ho detto prima si farà la valutazione degli uomini a disposizione, ma potrebbe essere sicuramente questo il dato di partenza. Se può essere anche una partita per vedere qualcosa in più sotto la fase della proposizione, cioè di creare anche più occasioni, ovviamente con la regina si fa un tipo di partita diverso, invece con l'Avellino magari si può puntare anche a creare qualcosa in più, perché non lascerà giocare e forse farà una partita un po' più accorta. Ma è normale che noi speriamo sempre di fare di più, però siamo anche il secondo miglior attacco, quindi squadre che hanno speso dieci volte più di noi hanno fatto sette, otto gol meno di noi, quindi si punta sempre a fare il meglio, noi giochiamo sempre, ci alleniamo per migliorare, per alzare il nostro livello, sia nella fase difensiva che nella fase offensiva, però direi che sotto questo punto di vista la squadra ha mostrato comunque delle cose positive.